A poco più di tre settimane dall'uscita dei negozi, EA rilascia una demo, al momento disponibile solo per pochi possessori di Xbox 360 e dal 22 gennaio invece finalmente accessibile a tutti gli utenti console. Un piccolo assaggio per farci un'idea delle novità che ci aspettano nell'atteso Dead Space 3. Col terzo capitolo della loro serie horror, i Visceral Games portano Isaac Clarke su un pianeta freddo ed in ospitale, dove lo sfortunato eroe per caso precipita con la propria nave. Tau Volantis dimostra molto presto di essere ospite di una nuova minaccia necromorfa, con orrende creature nascoste sotto la neve. Grazie alla demo abbiamo potuto provare alcune fasi di quello che appare come uno dei capitoli iniziali, con Isaac che cerca di orientarsi sul pianeta nel bel mezzo di una bufera di neve. I movimenti sono lenti e difficili, ma pad alla mano ci sentiamo subito a casa, con sistema di controllo praticamente identico al precedente capitolo. I primi incontri con le deformità necromorfe ci costringono ad utilizzare il plasma cutter, ancora una volta fondamentale per strappare gli arti ed eliminare i nemici il più rapidamente possibile. Torna anche la stasi con la quale rallentare i mostri per poi affettarli con tutta calma. Compare però un'importante novità, quale l'inserimento delle coperture, dietro le quali ci si potrà nascondere premendo semplicemente il trigger sinistro. Questa introduzione si rivela di fondamentale importanza negli scontri a fuoco, considerata l'aggiunta di nemici umani, soldati che vogliono la testa di Isaac. Ma non solo, i necromorfi potranno ora prendere possesso di questi, cambiando le dinamiche del combattimento in maniera repentina ed inaspettata. Da questo punto di vista si percepisce la sterzata verso uno spirito più action, sebbene 20 minuti di demo non permettano di capire quanto queste fasi più movimentate incidano sull'avventura totale. Un altro elemento che abbiamo potuto estrapolare da questa prova è la presenza di numerose boss fight. Già solo nelle fasi giocate abbiamo affrontato tre situazioni di questo tipo, tutte ben realizzate e divertenti. Da questo punto di vista, Dead Space 3 sa essere spettacolare come, se non di più, del diretto predecessore, grazie ad una regia davvero ben studiata. Importanti novità si fanno notare nella gestione delle armi e della tuta. Le prime godono ora di un inedito sistema di editing, che grazie agli appositi tavoli da lavoro permette di creare strumenti di morte nuovi di zecca, assemblando liberamente oggetti rinvenuti direttamente sul campo. Ciò permette all'utente di applicare all'arma mirini, stasi, stabilizzatori, spari secondari e quant'altro, per creare lo strumento che meglio sia adatti al proprio stile di gioco. Entra prepotentemente a far parte del gameplay un elementare crafting, che va a sostituire i vecchi upgrade da guadagnarsi con i nodi energetici. Ora ogni oggetto sarà realizzabile a partire da elementi recuperati da cadaveri e casse sparsi per i livelli. Lo stesso vale per le tute da potenziare in diversi aspetti sempre impiegando item di vario tipo. L'introduzione di questo sistema ci è apparso davvero interessante e ben integrato con l'esperienza di gioco, aggiungendo un certo grado di personalizzazione che sicuramente non guasta e che si farà sentire nelle partite cooperative dove potremo differenziarci e renderci complementari al nostro compagno di avventure. Infatti l'innovazione più importante di Dead Space 3 è certamente rappresentata dalla cooperativa due giocatori, i quali possono affrontare la medesima campagna con supporto al drop-in e drop-out senza necessità di uscire dalla partita. Giocare in compagnia modifica gli avvenimenti e persino alcuni enigmi, ma per provare approfonditamente tale feature dovremo attendere di avere in mano la versione completa del titolo. Lo stesso vale per il comparto tecnico che comunque già da questa demo si evidenzia come molto buono. La presenza di spazi aperti e della luce del giorno non ha di certo intimorito gli artisti di Visceral Games, che sono riusciti a creare ambienti di gioco molto accattivanti. La resa della neve ed il sistema di illuminazione sono due aspetti che ci hanno davvero colpito. L'atmosfera, nonostante la sterzata action, rimane tesa e non vediamo l'ora di approfondire la nostra esplorazione di Tao Volantis. In 20 minuti di gioco, Dead Space 3 riesce a dimostrare di avere in serbo importanti novità, vedi la cooperativa ed il sistema di crafting, uniti ad un'ambientazione nuova di zecca. Nonostante l'inserimento di fasi d'azione assimilabili ai classici sparatutto in terza persona, l'atmosfera che si respira su Tao Volantis è quella di sempre, dimostrando ancora una volta come Visceral Games sappia il fatto suo quando si parla di survival horror. L'8 febbraio è ormai dietro l'angolo, restate con noi per non perdervi la video recensione dedicata a Dead Space 3. Dead Space 3 è un survival horror sviluppato da Visceral Games e distribuito da EA, disponibile dall'8 febbraio 2013 su PC, PS3 ed Xbox 360. Per articoli, soluzioni e news visitate games.it